Cari amici telespettatori, benvenuti a quest'anteprima di puntata del 4 aprile 2024. Quest'oggi parleremo di tanti argomenti, ma inizieremo questa puntata con una fila cantata dai Bonnie Anne. Stiamo parlando di un brano del 76-77 da Rikud, quindi amici musica e ci sentiamo fra qualche attimo. Quattro, quattro, quattro. Quattro, quattro, quattro. Quattro, 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 quattro. Quattro, 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 quattro. Quattro, 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 quattro. premio dove vedremo sicuramente delle ottime partite il sabato, però poi ne parleremo successivamente. Un augurio speciale a tutti gli amici che fanno gli anni di Facebook, Instagram e X. Un saluto a tutti coloro che magari sono in difficoltà o magari sono negli ospedali e un abbraccio speciale. Poi amici naturalmente parleremo delle varie tournée. Vi ricordo che si avvicina sempre di più il 19 aprile dove ad Abano ci saranno i Little Tony Femmary. Mi raccomando correte numerosi a teatro perché sarà insomma un mega spettacolo. Quindi amici giapponesi e non solo, vi aspettiamo. E detto questo amici procediamo con la nostra prasmissione, ma prima ci facciamo qualche minuto di pausa e poi continueremo. Quindi linea la regia e poi procediamo con la nostra prasmissione prima di terminarla con un'altra grandissima canzone. Tutti insieme. Grazie a tutti. ed ora rieccoci dopo il mini spot e procediamo con i vari argomenti dove vi ricordo questa sera la penultima puntata di se potessi dirti addio con i Gabriegardo e la grandissima Sabrina Ferilli. Quindi aspetto voi numerosi a guardare questa fiction che direi ha avuto ottimi ascolti e vedremo se gli ottimi ascolti continueranno su canale 5. Ed ora amici prima di salutarsi chiuderemo questa nostra diretta con un classicone della nostra musica e sto parlando di un brano. Attenzione, attenzione, attenzione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signori, 1981, Umberto Totti, Notte Rosa. E questa sarà la nostra sigla finale. Ed ora, musica e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. E questa sarà la nostra sigla. 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 E questa sarà la nostra sigla.